cancro sei affaticato ma guardando le stelle del momento con sole mercurio marte in ottimo aspetto questa agitazione questo stress non è infruttuoso quindi anche se oggi una discussione potrebbe nascere anche se avrai bisogno di allontanare un seccatore cerca comunque di andare avanti al meglio probabile addirittura che il tuo lavoro vada così bene da infasterire una persona oppure se non hai un'attività fissa se comunque ti occupi della famiglia arriveranno delle buone soluzioni cielo molto importante per chi entro la fine dell'anno vuole completare un progetto d'amore attenzione alla gelosia